ciao ragazze e bentornati a crochet romance oggi vediamo un altro filato nuovo e estivo e questa volta vi ho portato un filato della silk marca italiana molto conosciuta da anni ormai ed è un filato che si chiama forma intera forma intera arriva in cake come vedete ho già usato quasi un gomitolo e parto subito col farvi vedere il lavoro che sto realizzando vedete ho fatto una prova ad uncinetto uno shawl triangolare appunto granny semplicissimo tanto per vedere come scorre il filo e come si sviluppa il cambio colore se vedete che questa cake è quasi vuota non è che ho consumato tutto qua avevo prima sgomitolato una buona parte per fare un piccolo gommitolino da far vedere ad una cliente quindi rende molto di più rispetto a quello che può sembrare magari da questo video come vedete le sfumature sono abbastanza delicate che il passaggio è delicato e secondo me non sono tagli netti e la sfumatura non è troppo lunga cioè quindi si riesce anche in poco già a vedere un gioco di colori interessanti questo che sto usando qui è il colore 73 e ogni gommitolo è un gommitolo da 100 grammi per se non erro 220 metri ok come vedete anche l'etichetta ci indica che è un filato made in italy ma parliamo anche della fibra che è 100 per cento naturale abbiamo un 45 per cento lino e un 55 per cento di cotone l'etichetta ci indica che è consigliato l'utilizzo dei ferri e dell'uncinetto 3 mezza 4 io per il mio campioncino sto usando l'uncinetto numero 5 e trovo che il risultato sia molto molto bello vi volevo fare vedere la particolarità del filo perché oltre ad avere i cambi di colore anche il filo stesso e di spessore variegato vedete qui abbiamo una sezione di filo un po più grosso poi un po più fine poi di nuovo grosso e questo crea un effetto veramente bellissimo è molto rustico grezzo e a me piace tanto diciamo che si riescono a creare capi che rispecchiano la natura naturalezza in ogni aspetto sia per i colori sia per il che è secco e per questa variegazione del filo andiamo a vedere quindi il colore 73 vedete ha delle sfumature del giallo rosso arancione verde e addirittura c'è anche il viola dentro ed è veramente stupendo qui ad esempio vediamo un capo lavorato ai ferri vedete l'effetto a righe che crea vedete le sfumature variano non hanno sempre lo stesso spessore quindi ci sono delle sezioni più grandi e più piccoli e per fare questo completo il modello indica l'utilizzo di quattro gomitoli e i ferri del 3 e mezzo qui hanno usato il colore numero 72 andiamo a vedere questo è il colore 75 e qui abbiamo delle sfumature delicate sul giallo viola ma molto pasteloso oro il bianco una sfumatura che ha anche un pochettino di beige molto molto neutra elegante vediamo il colore 70 qui abbiamo un po di azzurro verde pastello violetto arancione e e direi che questi sono i colori che abbiamo in questa cake magari ecco si potrebbe definire un po di color turchese anche al suo interno poi vediamo il prossimo colore qui abbiamo un tono su tono di turchese celeste azzurro molto molto bello ed il codice è il numero 74 poi andiamo avanti qui un'altra sfumatura di azzurro perché sono poi i colori che vanno sempre per la maggiore perché si abbinano facilmente ai jeans il colore 76 questo è veramente particolare abbiamo proprio un blu jeans un po che tende verso il grigio il verdino il turchese il colore acqua celeste veramente stupendo questa sfumatura e poi il 73 ve l'avevo fatto vedere quello che sto usando io ma vi faccio vedere anche il gomitolino intero e poi infine l'ultimo colore che mi è rimasto da farvi vedere è uno spettacolo perché ha delle sfumature che vanno dal oro al celeste al verde arancione questo è molto molto bello ed è il colore 72 che tra l'altro vedete è stato usato anche in questo modello quindi vedete come è interessante per nulla noioso ok questo è la novità met in italy ripeto 100 per cento fibra naturale è perfetta per i vostri capi tra l'altro vi dico quello che indica l'etichetta che però secondo me è un po prudente come calcolo allora loro dicono che per una taglia 42 servono 250 grammi di filato per fare una maglietta secondo me è un po troppo prudente perché abbiamo 220 metri in 100 grammi è vero che è un filato che crea subito volume ma io vi consiglierei comunque di prendere in considerazione quattro gomitoli sinceramente per fare una maglietta a punto fitto soprattutto se lavorate ad uncinetto con le mezze maniche secondo me prendetene quattro di gomitoli per una bimba da due anni indicano due gomitoli scusate per una bimba da dieci anni per una maglietta indicano due gomitoli anche qui io mi butterei su tre gomitoli lo dico perché preferisco non che non rimanete senza il filato perché mi è successo in precedenza che le indicazioni trovate sull'etichetta non erano molto veritieri ecco in effetto in effetti ho dovuto usare più gomitoli rispetto a quello che era indicato quindi piuttosto prendete un gomitolo in più tanto il filato non va mai sprecato un'altra cosa importante che vi volevo dire è che questo filato si può lavare a 60 gradi in lavatrici in lavatrice e si può stirare addirittura con il calore medio quindi è anche di facile cura io logicamente vi consiglio sempre di fare attenzione io non andrei oltre i 40 gradi per il lavaggio di questo capo però questa è quanto ci indica l'azienda io spero che vi piace questa bella novità vi lascio il link al filato sotto a questo video nell'info box e vi auguro ancora una buona giornata creativa ciao e a presto